io ho la partita iva non sono appassionata di fisco e non ho alcuna intenzione di diventarlo sognavo di mettermi in proprio da tre anni ma la burocrazia era paralizzante sono sempre in giro per lavoro e non avevo mai tempo di andare dal commercialista ora faccio tutto online ho scelto fisco zen perché non è solo un software e ti offrono un consulente fiscale dedicato la stessa persona mi ha seguito dall'apertura della partita iva fino alla dichiarazione dei redditi ho attivato fisco zen a metà anno e hanno subito preso in carico la mia partita iva dal vecchio commercialista si possono ridurre le tasse acquistando buoni pasto mica lo sapevo faccio il login e ho la previsione attuale di quante tasse pagherò a fine anno f24 fatturazione previdenza dichiarazione dei redditi praticamente avere la partita iva ormai è semplice come avere un conto bancario online fisco zen semplifica la partita iva